Mapei Stadium di Reggio Emilia, trentatresima giornata di Serie A, la quattordicesima di ritorno, Sassuolo-Roma Alzati e cammina, per scoprire di essere vivo come non mai La corsa di Piani, c'è Dumbia! Seidu Dumbia! Al quinto e quaranta secondi, ci porta in vantaggio con una capocciata di una violenza inaudita Sassuolo zero, Roma uno, Seidu Dumbia, tutti zitti, tutti zitti! La corsa di Piani che va con l'interno destro, con i pugni, interviene i consigli, parata nemmeno troppo difficile Quindi ancora Piani per Florenzi, buono questo momento della Roma, vince il contrasto a Florenzi, arriva al limite, ancora Florenzi va a calciare! Mamma mia che gol di Alessandro Florenzi! Ha fatto una cosa meravigliosa! Davvero un gioco di prestigio, una giocata memorabile Un pendente che si è insaccato alla destra di Andrea Consigli, ventiseiesimo e trenta, Sassuolo zero, Roma due, Alessandro Florenzi Un gol pazzesco di Dani Aglius Florenzi Col futuro qualcuno ha giocato da zardo Ancora per Brighi, nel quarticampo da Roma, valla lancio per Zazza che prova la girata, che parata di Morgan De Santis Con Torosidis che poi la scalaventa in calcio d'angolo, una grande parata di Morgan De Santis Inbucata fantastica per Gervinio, la tocco tra strada di rigore, entra in area, Gervinio le pinte, vorrebbe calciare, non c'è spazio, vediamo quello che fa ancora Gervinio fino sul fondo al centro C'è Pjanic, 3-0 per la Roma, gol di Mire Pjanic al 28esimo e trentasette, finalmente Gervinio Finalmente Gervinio è arrivato sul fondo, grande palla di Florenzi in profondità nell'uno contro uno Ha saltato finalmente il diretto avversario, ha servito Pjanic dietro, una palla raso terra Pjanic ha fatto partire un tiro fortissimo, imparabile per Consigli La gara termina qui, vibra il fischietto del signor Paolo Silvio Mazzolini di Bergamo La Roma batte per 3-0 il Sassuolo con i gol di Dumbià, Lorenzi e Pjanic Giocatori che si abbracciano, vittoria meritata, mai messa in discussione Se ci hai creduto oggi non c'è più